Si è svolto presso la sala Pasolini della Fiera di Cagliari l'evento di chiusura della campagna elettorale di Alessandra Todde, candidata del campo largo alle elezioni regionali. Io non temo nessuno, quello che invece voglio dire è che il 25 febbraio i sardi possono scegliere, da una parte la continuità di coloro che hanno distrutto la Sardegna, una sanità che non funziona, trasporti che non ci fanno uscire, entrare alla Sardegna, non ci fanno muovere all'interno della Sardegna, un'istruzione negata, i nostri figli che sono costretti ad andare fuori perché non trovano un lavoro stabile in Sardegna. E invece di contro un cambiamento, un cambiamento portato avanti con entusiasmo, con passione, dopo cinque anni in cui tutte le forze politiche che si sono opposte a questa giunta hanno deciso di riunirsi insieme. E questo è un risultato straordinario per il centro-sinistra, straordinario perché finalmente abbiamo deciso di non spaccare l'atomo e di decidere di ragionare in addizione. E quindi quello che dico a quelli che sono indecisi, a quelli che sono arrabbiati, a quelli che pensano che la loro voce non conti e il cambiamento si può fare, e quale è il miglior cambiamento di una donna prima presidente della regione Sardegna. In un'intervista rilasciata alcuni giorni fa ai cronisti dell'ANSA, Alessandra Todd aveva dichiarato che l'evento sarebbe stato tutto sardo per i sardi. E così è stato, la candidata del Campolargo ha scelto di chiudere la sua campagna elettorale senza il supporto dei big della politica nazionale. Siamo stati insieme a loro i giorni scorsi, abbiamo girato i territori, abbiamo girato le città più importanti. Ed era invece giusto, visto che ci sono forze civiche, forze indipendentistiche, forze sarde, che oggi fosse la nostra festa. Che oggi tutti i candidati, 600 che si sono spesi nel territorio, si trovassero anche riconosciuti rispetto al lavoro che hanno fatto. Quindi oggi si parla di Sardegna con i sardi e sono molto felice di poterlo fare.